36. Josh scavò la tomba con una pala presa dal seminterrato di Liona Skelton e seppellirono Davy nel giardino sul retro. Mentre Liona chinava la testa e recitava una preghiera che il vento portava via e faceva a pezzi, Suon alzò lo sguardo e vide il piccolo Terrier seduto a una ventina di metri di distanza, con la testa inclinata da un lato e le orecchie dritte. Nella settimana precedente aveva lasciato all'animale avanzi di cibo sui gradini del portico, il cane aveva preso il cibo, ma non si era mai avvicinato abbastanza perché Suon potesse toccarlo. Pensava che il Terrier si fosse rassegnato a vivere di avanzi, ma che non era ancora abbastanza mendicante da scodinzolare per avere l'elemosina. Josh aveva finalmente fatto un bagno. Avrebbe potuto cucirsi un abito con tutta la pelle che veniva via e l'acqua era sporca come se vi avesse direttamente spalato dentro la terra. Aveva lavato via il sangue secco e la terra dalla sporgenza dove c'era stato il suo orecchio destro. Il sangue era penetrato molto in profondità nel canale e ci mise un po' per rimuoverlo. Dopo si rese conto che per tutto il tempo aveva sentito con un solo orecchio e che i suoni erano di nuovo sorprendentemente acuti e chiari. Era ancora senza sopracciglia e il suo volto, il petto, le braccia, le mani e la schiena erano striati e macchiati dalla perdita del pigmento nero, come se fosse stato colpito da una secchiata di vernice beige. Si consolò con l'idea che assomigliava a un capo guerriero Zulu in vesti da guerra o qualcosa del genere. Gli stava crescendo la barba e anche essa era striata di bianco. Le vesciche e le ferite sul suo volto stavano guarendo, ma sulla sua fronte c'erano sette piccoli noduli neri che sembravano verruche. Due di esse si erano unite. Josh tentò di grattarle via con il dito, ma erano troppo dure e il dolore gli fece dolere l'intero cranio. Cancro della pelle, pensò. Ma le verruche erano presenti solo sulla sua fronte e da nessun'altra parte. Sono un rospo zebrato, pensò. Ma per qualche ragione quei noduli lo preoccupavano più di qualsiasi altra ferita o cicatrice. Aveva indossato di nuovo i suoi abiti, perché nulla di ciò che c'era in casa era della sua misura. Leona li aveva lavati e aveva ramendato i buchi con ago e filo, ma erano in condizioni abbastanza misere. La donna gli aveva dato un nuovo paio di calzini, ma anche quelli erano troppo stretti. Comunque i suoi calzini erano sacchi di buchi tenuti insieme dal sangue secco, del tutto inutili. Dopo aver sepolto il corpo, Josh e Swan lasciarono Leona da sola, accanto alla tomba di suo marito. Lei si strinse intorno alle spalle un malconcio cappotto di fustagno e distolse il volto dal vento. Josh andò nel seminterrato e iniziò i preparativi per il viaggio che avevano programmato. Portò al piano di sopra una carriola piena di provviste. Cibo in scatola, della frutta secca, muffin di gran turco duri come la pietra, sei barattoli di vetro attentamente sigillati contenenti acqua del pozzo, coperte e vari utensili della cucina. Coprì il tutto con un telo che legò con dello spago robusto. Leona, con gli occhi gonfi per aver pianto, ma con la schiena dritta e forte, alla fine rientrò e iniziò a riempire una valigia. Le prime cose a finirci dentro furono le fotografie della sua famiglia, che erano sulla mensola del camino, e quelle furono seguite da maglioni, calzini e cose simili. Preparò una borsa più piccola, piena di vecchi abiti di Joe per Swan, e mentre il vento soffiava intorno alla casa, Leona andò da stanza a stanza, e sedette per un po' in ciascuna di esse, come se ne assorbisse gli aromi e i ricordi della vita che li permeava. Si sarebbero diretti a Matheson alle prime luci dell'alba. Leona aveva detto che li avrebbe portati lì, e che durante il viaggio avrebbero incontrato una fattoria che apparteneva a un uomo di nome è Homer Jaspin, e ha sua moglie Maggie. «La fattoria degli Jaspin», disse Leona a Josh, «era più o meno a metà strada tra Sullivan e Matheson, e vi avrebbero potuto passare la notte». Leona impacchettò diverse delle sue migliori sfere di cristallo, e da una scatola su un ripiano dell'armadio tirò fuori alcune buste da lettera ingiallite e cartoline d'auguri. «Lettere d'amore di Davy», spiegò a Swan, «e cartoline che le aveva mandato Joe». Nella sua valigia finirono anche due barattoli di pomata per le sue ginocchia con i reumatismi, e anche se Leona non l'aveva mai detto, Josh sapeva che camminare per quella distanza, almeno 16 chilometri fino alla fattoria degli Jaspin, sarebbe stato una pura tortura per lei. Ma non c'erano veicoli disponibili, e non avevano scelta. «Anche il mazzo di tarocchi finì nella valigia di Leona, e poi prese un altro oggetto, e lo portò nella stanza sul davanti». «Tieni», disse a Swan, «voglio che porti questo». Swan accettò il bastone dell'abdomante che Leona le stava porgendo. «Non possiamo lasciare Crybaby tutto solo qua, no?», le chiese Leona. «Oddio, no! Il lavoro di Crybaby non è finito ancora. Niente affatto». La notte passò, e Josh e Swan dormirono profondamente, in letti che avrebbero lasciato con rimpianto. Lui si svegliò con chiazze di torbi da luce grigia che illuminavano la finestra. La forza del vento era diminuita, ma il vetro della finestra era freddissimo al tatto. Andò nella stanza di Joe e svegliò Swan, e poi uscì nella stanza sul davanti e trovò Leona seduta davanti al camino freddo, vestita di una tuta, scarponi, un paio di maglioni, il cappotto di fustagno e guanti. Su entrambi i lati della sua poltrona c'erano borse. Josh aveva dormito vestito, e adesso si infilò un lungo cappotto che era appartenuto a Devi. Durante la notte, Leona aveva scucito e ricucito le spalle e le maniche perché lui riuscisse a indossarlo, ma si sentiva ancora come una salsiccia troppo piena. «Immagino che siamo pronti per partire», disse Josh quando arrivò Swan, portando il bastone da rabdomante e con addosso un paio di jeans di Joe, un pesante maglione blu scuro, una giacca foderata di pelo e muffole rosse. «Ancora un minuto», Leona teneva le mani giunte in grembo. L'orologio a molla sulla mensola del camino non stava più ticchettando. «Oh, signore», disse, «questa è la casa migliore in cui abbia mai vissuto». «Te ne troveremo un'altra», promise Josh. Sul volto della donna comparve l'ombra di un sorriso. «Non come questa. Questa contiene la mia vita nei suoi mattoni. Oh, signore. Oh, signore». La sua testa si abbassò nelle sue mani. Le sue spalle tremarono, ma non emise un suono. Josh andò a una finestra e Swan fece per mettere la mano sul braccio di Leona, ma all'ultimo istante evitò di farlo. La donna era addolorata, Swan lo sapeva, ma Leona si stava anche preparando, accertandosi di essere pronta per quello che sarebbe arrivato. Qualche minuto dopo, Leona si alzò dalla poltrona e andò nel retro della casa. Tornò con la sua pistola e una scatola di proiettili e ficcò entrambe le cose sotto il telo che copriva la carriola. «Potremmo averne bisogno», disse. «Non si sa mai». Guardò Swan, poi sollevò gli occhi per guardare Josh. «Credo di essere pronta ora». Prese in mano la valigia e Swan prese la borsa più piccola. Josh sollevò i manici della carriola. Non erano così pesanti adesso, ma la giornata era appena iniziata. D'un tratto la valigia di Leona cadde di nuovo sul pavimento. «Aspettate», disse, e corse in cucina. Tornò con una scopa che usò per spazzare nel camino la cenere e le braci spente. «Molto bene», mise via la scopa. «Adesso sono pronta». Lasciarono la casa e iniziarono a camminare in direzione nord-ovest attraverso i resti di Sullivan. Il piccolo terrier dal pelo grigio li seguì a una trentina di metri di distanza, tenendo alta la coda mozza per mantenere l'equilibrio contro il vento.